Anna Maria assolutamente fa girare perché è capitato a me, questa persona si è rivolta a me per una gattina tricolore e già mi puzzava la cosa che già io a sensazioni vedevo che non mi piaceva, poi tramite le sorelle vicoli mi sono informata e ho scoperto che Emanuela l'aveva ritirato due anni fa un cagnolino da questa persona che praticamente lo vedeva al parco, che lo maltrattava, gli tirava le botte e vorrebbe prendere un gatto. Sta facendo una ricerca per prendere un gattino perché adesso ha la nuova compagna, questo è separato, avrà litigato con la moglie e tutto e vuole dare una compagnia per la figlia, ma non va bene perché è una persona già di sopra e potente, i gatti lo sappiamo, gli animali salgono ovunque, questo già la prima cosa, secondo me già questa gattina le fa fare una brutta fine e io sono preoccupata, sono preoccupata anche per gli altri che lui sta cercando e sono preoccupata perché se non prende da me lo prenderà da un privato e questa cosa veramente mi preoccupa, anzi se si potesse sapere qualcosa di più se ottiene da qualcuno bisogna un po' tenerlo sott'occhio. Grazie. 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 Grazie.